Deborah Lettieri sostituisce Raimondo, Maria e Rivoluzione ad Amici24 L'articolo sulla sostituzione di Raimondo Todaro con Deborah Lettieri come nuova insegnante ad Amici24 solleva diversi temi che catturano l'attenzione del pubblico. Gli spettatori sono particolarmente interessati al mondo della danza, alle dinamiche interne tra gli insegnanti del talent show, e alla figura di Lettieri stessa, una professionista con un forte background internazionale. Il primo elemento che suscita curiosità è il cambiamento nel corpo docente di Amici, con l'uscita di scena di Raimondo Todaro. Todaro era una figura ben consolidata e amata all'interno del programma, e la sua assenza segna una svolta importante. Il pubblico è naturalmente curioso di conoscere chi sarà in grado di sostituirlo, e la scelta di Deborah Lettieri, un nome di grande prestigio nel mondo della danza, appare come una decisione ponderata e ambiziosa da parte di Maria De Filippi. La selezione di una nuova insegnante porta inevitabilmente a confronti con Todaro, soprattutto perché lui era noto non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per il suo approccio personale e l'energia che portava nello show. I fan del programma si chiedono se Lettieri sarà in grado di portare lo stesso tipo di atmosfera o se offrirà un contributo completamente diverso. Un altro tema di grande interesse è la personalità di Deborah Lettieri, descritta come forte e decisa, elementi che potrebbero portare a interessanti confronti e discussioni con altri insegnanti, in particolare con Alessandra Celentano. Celentano è nota per il suo rigore e la sua severità, e l'aggiunta di un insegnante altrettanto determinata come Lettieri potrebbe generare nuove dinamiche e scontri accesi che i telespettatori amano seguire. Le dichiarazioni di Luca Tomassini, che in passato ha descritto Lettieri come il piostro asterisco 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 di me, alimentano ulteriormente l'aspettativa di vedere delle interazioni forti tra Lettieri e Celentano. Il pubblico di Amici è da sempre affascinato dalle personalità carismatiche e dagli scontri tra insegnanti, perché questi momenti di tensione aggiungono un livello di drammaticità e imprevedibilità al programma. Un altro aspetto che cattura l'attenzione è il curriculum di Deborah Lettieri, che vanta una carriera internazionale. Lettieri ha danzato nel celebre locale parigino Crazy Orse, un'esperienza che non solo aggiunge prestigio al suo nome, ma che rappresenta anche un elemento di novità per il pubblico italiano. Il Crazy Orse è noto per il suo stile innovativo e anticonformista, e questo collegamento con Lettieri potrebbe portare una ventata di freschezza e originalità al talent show. Lettieri ha condiviso dettagli interessanti sulle selezioni fisiche richieste per esibirsi al Crazy Orse, descrivendo standard molto specifici riguardo al corpo delle ballerine. Questo tipo di informazioni non solo incuriosisce gli spettatori, ma offre uno sguardo dietro le quinte del mondo della danza professionale a livello internazionale. Lettieri ha infatti spiegato che al Crazy Orse le ballerine devono rispettare misure molto precise, il che sottolinea il rigore e la disciplina che caratterizzano questo tipo di spettacolo. Questi dettagli affascinano il pubblico, pochi rivelano quanto sia selettivo e complesso il mondo in cui Lettieri ha costruito la sua carriera. Infine, un altro aspetto che interessa i fan è il processo decisionale di Maria De Filippi. La conduttrice è nota per scegliere con attenzione gli insegnanti di amici, cercando sempre di portare figure che possano arricchire il programma sia dal punto di vista tecnico che umano. La scelta di Deborah Lettieri, una ballerina di fama internazionale, riflette la volontà di De Filippi di elevare ulteriormente il livello del programma e di introdurre una nuova figura che possa portare un'energia diversa. Maria De Filippi ha dimostrato di essere molto attenta a come le dinamiche tra insegnanti influenzano il format del programma, e l'introduzione di Lettieri potrebbe essere una mossa strategica per mantenere alto l'interesse del pubblico. In un programma come Amici, dove il rapporto tra lievi e insegnanti è cruciale, ogni nuova giunta al team docente rappresenta una scommessa che può alterare significativamente l'andamento del talent show. La sostituzione di Raimondo Todaro con Deborah Lettieri è un tema che ha suscitato grande attenzione, poche coinvolge diversi aspetti che appassionano il pubblico, la personalità della nuova insegnante, il suo prestigioso background internazionale, e le possibili nuove dinamiche all'interno dello studio di Amici. L'introduzione di Lettieri potrebbe portare una ventata di novità al programma, e il pubblico sarà curioso di vedere come si inserirà tra gli altri insegnanti e come interagirà con gli allievi.